A meno di quattro giorni dalla segnalazione a Rossini TV è stata risolta la situazione di degrado denunciata alla nostra emittente da alcuni telespettatori riguardanti il piazzale Agile Fava. Ai piedi delle scalinate del retro del nuovo auditorium Scavolini campeggiava infatti una situazione di abbandono di materiali di scarto da lavoro in prevalenza tubi accatastati sul terreno. Un abbandono non solo sgradevole dal punto di vista estetico ma che veniva segnalato anche come luogo di rifugio per topi. Il tutto a pochi passi da una delle poche panchine presenti sul piazzale. La segnalazione ha dunque sollecitato il pronto intervento di pulizia degli operatori di marchi e multiservizi in un angolo di piazzale in cui sarebbe anche contemplabile un intervento più radicale sull'incuria di muri imbrattati e sgretolati. Vi ricordiamo il numero whatsapp dedicato alle segnalazioni a Rossini TV 370-366-7210 per denunciare simili situazioni di degrado e per tentare di porvi rimedio.